Con 13.700 imprese e 45.600 addetti l'artigianato altotesino costituisce un pilastro fondamentale dell'economia altotesina. L'IRE, l'Istituto di ricerca economica della Camera di Comercio di Bolzano, ha intervistato 1.906 imprese artigiane di tutte le categorie professionali per esaminare in modo approfondito i fattori di successo e le attuali sfide di questo settore. I risultati dello studio sono stati presentati presso l'impresa Prolass di Cardano nel corso di una conferenza stampa virtuale. I risultati principali sono che l'artigianato è molto stabile e abbiamo anche analizzato le sfide maggiori per le imprese e abbiamo visto dal punto di vista della digitalizzazione dei strumenti tecnologici, abbiamo visto che alcune imprese stanno già facendo molto però ci sono ancora margini di miglioramento anche dal punto di vista della collaborazione tra le imprese. L'emergenza coronavirus ha provocato una notevole riduzione del fatturato per tutte le categorie professionali dell'artigianato. Ad esempio per la metà degli artigiani il fatturato di aprile ha subito una contrazione del 50% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. L'artigianato è molto importante per l'Alto Adige, una volta come parte dell'economia e soprattutto fuori anche nei nostri vallati e nei paesi fuori e come secondo anche come apprendistato noi formiamo molti dei nostri giovani e diamo un futuro a questi. Lo studio L'artigianato in Alto Adige tra tradizione e digitalizzazione, sviluppo, struttura e sfide è disponibile in forma cartacea presso la Camera di Commercio di Bolzano e anche online sul sito www.ire.bz.it.